Era un'amichevole costruita un po' in corsa, non era programmata, però devo ringraziare il sorrento che ha risposto ed è venuta. Avevamo bisogno, con l'arrivo di Arthur, di testarci un attimino con il ritmo di gara, che era quello che volevo vedere. Su arrivo con due allenamenti, le cose che stiamo provando e vederlo subito in un ritmo diverso di quello dell'allenamento era per me necessario e fondamentale. Ci sono viste tante cose in questa partita, insomma abbiamo faticato poi i primi set a dare un po' di ritmo sulla fase break. È una cosa buona, vuol dire che avremo tanto da lavorarci, fondamentale che in questo periodo abbiamo lavorato pochissimo, quindi il muro è abbattuto. Un po' di criticità lì l'abbiamo vista, abbastanza soddisfatto sul side up per i movimenti che stiamo esprimendo. Dopo, insomma, con l'arrivo dei nuovi avremo modo di verificare se tutto quello che stiamo facendo alla base adesso con i carrizzatori centrali sarà buono. Assolutamente sì. Rispetto alla scorsa stagione, quest'anno insomma abbiamo avuto modo e stiamo comunque continuando a visionare, a lavorare con i ragazzi di territorio. E questo per me, insomma, è un motivo che è una cosa che mi dà stimolo, perché sono ragazzi che hanno voglia, che sono delle spugne, quindi insomma devo arrivare sempre con degli argomenti e dare a loro tutto quello che in questo periodo può essere utile per iniziare e cominciare, diciamo, a incrementare un percorso che è quello di, insomma, che porta alla formazione di un livello tecnico e tutti questi hanno la speranza di poter arrivare in Serie A in un futuro. Io non metto nessuna etichetta a questi giovani, sono qui che si impegnano e si lavorano e di questo non siamo molto contenti. Grazie.